Sindaco, com'è la situazione all'interno, lei che è stato lì vicino? Buongiorno, la situazione diciamo che dal punto di vista dell'incendio è sotto controllo. Parlavo anche prima con il responsabile dei vigili del fuoco, però di fatto hanno il problema che poiché ci sono ancora temperature elevate all'interno c'è il rischio di crollo della copertura e quindi non si azzardano ad entrare. Quindi diceva che adesso attenderanno così che si consumi la parte di materiale che si raffreddino le strutture per poter entrare e quindi bagnare e smassare il tutto in maniera da poter bagnarlo. Come diciamo, da un punto di vista di fabbricato, situazione sotto controllo. A breve dovrebbe arrivare l'acqua, ma anche per le verifiche della qualità dell'aria. In realtà quello che ci dicevano, per i materiali che stanno bruciando non dovrebbero esserci problemi. Ha visto i proprietari, hanno detto qualcosa? No, sì, diciamo, non li ho visti entrambi, papà e figlio, ho visto il figlio, ci ho parlato assieme e iniziava appunto così che contavano appunto di realizzare un ampliamento fabbricato che è proprio passato in consiglio comunale poco tempo fa e che invece adesso ovviamente dovranno dedicare tutti i loro sforzi e energie a ricostruire, ma che comunque contano di andare avanti e di proseguire con l'attività. Grazie. Posso così? Grazie.